Ma se qualcuno dovesse chiedertelo, lui è il mio cugino, lui è il mio cugino, il mio cugino di bacio, perché ci baciamo molto spesso nelle parti intime. Cosa? È divertente, tu mi rendi paranoico. Dove dobbiamo scendere da questo treno? DTLA, e lo sai per che cosa sta, vero? Sì. Cosa? Downtown Los Angeles. Sì. Cosa? Belli. Sta dicendo che forse tu balli per via della droga, la droga ti fa venire voglia di ballare. No, sta dicendo che stiamo andando nella balli, siamo saliti sul treno sbagliato. Te l'avevo detto, te l'avevo detto di prendere la mia blu. No, no, è stata colpa mia. Te l'avevo detto, te l'avevo detto, sei proprio uno stupido, stupido stronzo. Sta dicendo a te. No. No, no, è stata colpa mia. No, è stata colpa. No, è stata colpa. Oh, mio Dio, stiamo ancora andando. I miei occhi sono secchi. Ci arriveremo presto, lo so, e sai che c'è? Sono sobri. Ci stiamo mettendo troppo. Perché l'abbiamo fatto? È una follia. Credevo che la metro di Los Angeles fosse lunga otto isolati. Io ci rinuncio. Ci rinuncio. Voglio andare a casa, voglio andare a letto. Mi fa male lo stomaco, i miei occhi sono secchi da morire. No, no, andi, 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 che schifo. È come una lancia meccanica. Grazie Dio. Credevo che i miei occhi fossero uva passa.